Martedì 27 febbraio 2018, dal Vangelo secondo Matteo capitolo 23, versetti da 1 a 12. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli iscrivi e i farisei, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciano dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate Padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Cari amici, il Vangelo di oggi ci ricorda l'incompatibilità tra fede cristiana e fariseismo. È un fatto istintivo cercare di creare un'immagine di se stessi positiva. Tutti desideriamo essere lodati e ammirati dell'ambiente in cui viviamo. Il male sta nel fatto che pur di avere questa ammirazione, facciamo volentieri carte false, facendo apparire ciò che non siamo. E a volte soffiando sul fuoco della calunnia per screditare altri che potrebbero farci ombra o concorrenza. Questo è il male che affligge le nostre comunità. Alla fine si avverte un che di falso e viene a mancare la fiducia e la stima reciproca. Il Vangelo pizzica anche chi fa le leggi da imporre agli altri, ma poi con disinvoltura le viola per primo. Vedi tanti casi di corruzione quasi quotidiani di cui si occupano i giornali, peraltro anch'essi intrisi di ipocrisia. Il popolo prende atto e perde la fiducia. Quanto tagliente è il Vangelo. Legano fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. L'unica cosa che ci salva è la santità. Vissuta nell'umiltà e nella consapevolezza, siamo tutti giudicati dal Vangelo e invitati alla scuola del Maestro Gesù, uno solo il vostro Maestro. E voi siete tutti fratelli. Chi si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Buona giornata nel Signore.